Canale YouTube di Luigi D'Azio La strofa Abbiamo visto la volta scorsa il verso e i vari tipi di verso Abbiamo visto le rime e i vari tipi di rime Oggi vediamo le strofe Cosa sono le strofe? Sono gruppi diversi omogenei da un punto di vista concettuale e di solito messi in rima Quindi abbiamo dei versi messi insieme Ecco, queste sono le strofe Di solito con delle rime tra di loro Nei secoli passati ogni strofa era caratterizzata da accenti ritmici Schema di rime e numero di versi rigidamente determinati I poeti moderni sempre più spesso realizzano strofe libere composte da versi di varia lunghezza e senza rime fisse I versi liberi I tipi di strofa più frequenti nella poesia italiana sono i seguenti Il distico è una strofa fatta di due versi Generalmente sono andecasillabi Ma non è detto Spesso hanno una rima baciata Quindi ricordate la volta scorsa La rima baciata è AA Oppure alternata è AB Quindi qui abbiamo una rima baciata O cavallina, cavallina storna Che portavi colui che non ritorna È una famosa poesia di Un pezzo, insomma, di una poesia di Giovanni Pascoli Che ricorda il momento in cui è stato ucciso suo padre Poi abbiamo la terzina Ecco, le terzine spesso anche se sono andecasillabi Ecco, dicevamo anche la volta scorsa Che gli andecasillabi sono i versi più frequenti Nella poesia italiana, nella tradizione poetica italiana E abbiamo già visto la volta scorsa Che la terzina, ad esempio la terzina dantesca Ha le rime incatenate Secondo uno schema ABA, BCB, CDC, eccetera E qui vedete le prime tre terzine Della poema della Divina Commedia Avanti con la quartina La quartina è una strofa fatta di quattro versi I metri sono vari Possono essere ancora una volta andecasillabi Come in questo caso, del resto Oppure settenari E via via gli altri tipi di verso Che noi abbiamo studiato Che sono un pochettino meno frequenti La rima può essere alternata Ricordate alternata ABAB O incrociata ABBA Qui vediamo, per esempio, una alternata Ed è un famoso sonetto di Ugo Foscolo Anche questo in andecasillabi Poi passiamo alla sestina La sestina è una strofa fatta di sei versi Che sono andecasillabi o settenari per lo più Come al solito I primi quattro andecasillabi sono a rima alternata Gli ultimi due a rima baciata Ecco Noterete questo Sia nella sestina sia nell'ottava Abbiamo la rima baciata negli ultimi due versi Generalmente Gli ultimi due versi si chiudono con la rima baciata Qui avete, per esempio, una poesia di Guido Gozzano Una sestina tratta da una poesia di Guido Gozzano In realtà in questo caso, però, abbiamo le rime con uno schema diverso Non c'è la rima baciata alla fine Infatti lo schema è seguente ABBA AB Quindi abbiamo, se vogliamo, i primi quattro versi con la rima incrociata E gli ultimi due con la rima alternata Invece sicuramente tutte le ottave terminano con una rima baciata Che serve anche per chiudere, in un certo senso, in una maniera spesso comica Oppure rimandare all'ottava successiva Ecco, qui, come vedete, abbiamo una ottava tratta dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto Come vedete, lo schema è seguente I primi sei versi sono con la rima alternata ABBAB E gli ultimi due a rima baciata CC Trovosse polveroso Rimosse riposo Fermosse frettoloso Cadere riavere